Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video di Vittoria Uni Oggi siamo qua perché? Perché siamo qua? Perché siamo qua perché oggi vince Elodie Sai quanto vince lei, eh? Deve vincere purtroppo Elodie Ah, mi però Allora, vince Elodie, no? E quest'anno vincere l'arcantante che vincerà quest'anno, no? E di premio abbiamo scelto di regalare Di regalare un po' il premio della spada Il premio della spadia Abbiamo scelto di premio, quindi mi raccomando Facciamola cantare e poi vediamo se la facciamo vincere Qua di lato, vicino a Elodie, abbiamo Madame, abbiamo Giorgio, abbiamo Ariete Abbiamo tutti i cantanti che c'erano quest'anno E anche tutti che si stanno anche guardando da casa Ok? Però, arredoti quanto Per favore, un po' di silenzio Appena si parla un po' di silenzio ragazzi, eh? Per favore, per favore Aurora si sta anche cambiando Perché deve essere elegante purtroppo E quindi Martina fa... Chi fa l'intervista ad Elodie? Eh... A Elodie avevo fatto l'intervista Hai ragione Facciamo cantare Elodie Lady cantante c'è? Elodie! Ciao Vittoria! Lo sai c'è due lo so a memoria, Elodie Siete vestiti tutti eleganti? Certo, certo, certo Allora Eccoti qua Oggi vincerai, sei contenta Ci sono tutti i cantanti che ti stavano aspettando Sì Non vedo l'ora Ok Allora Penso C'è Elodie, l'avevo vista in qualche... Vabbè Allora, vedi ragazzi Mi sono tagliati i capelli Perché mi sono andata a Barrafranta Me li sono tagliati È giusto Non è tanto giusto Però me li sono tagliati i poti Perché Tagliarli tanti mi arrabbierei Eh Perché appena mi arrabbio Io Io mi urlo Sì sacco Penso io sono Io sono peggio di voi Vabbè Ok Tu Vai Vai Allora Facciamo vincere Elodie con Elodie con la canzone vincitrice Due La canzone bella di Sanremo La più bella Ma non era bene del male Vittoria È anche È anche due Con le nuove sorpresine Vittoria Puoi vincere un weekend Alla fabbrica delle Mereide La collezione Ti è sfuggita di mano Io vedi Scarica Cosa c'è? C'è chi mi fai agitare Come ti aspetti se Sai già come va a finire La nuciosta è davvero più sottile Tutte le mie paure Che non è che stanotte se Si accorgono su di te E su Il video a volte è posto Il video non è facile Quello è che non c'è 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 Il rumore fa E si lancia la fine Di tutte le notte Telefonate interrotte Sto per sentimmi Basta Ma è fuori danza Per me le cose sono due Lacrime mie Lacrime tue Le cose sono due Due Solamente tu Una coltellata ogni parola Solamente io Negli scorsi sulla bocca della gente Forse te le torte adesso Ma lo rifarei lo stesso Con i stessi errori Lo rifarei E sono un giorno Prenato appena Non c'è finito male E se questo è un amico Ti perdonami Dimmi come mai Vieni Pomenico Io ti ruseviti E il rumore fa E il silenzio alla fine Di tutte le notte Telefonate interrotte Se avessi dimmi Basta Il mio cuore danza Per me le cose sono due Lacrime mie Lacrime tue Le cose sono due Due Che è casa Se mi non ti è inviata La mia Dostanata Mi mi lascia sotto casa Questa notte è umana E io ti cadene a galla E io ti cadene a galla Mi accorgo Il cuore di te Se questa notte è un amico Vedo Il wildly Puoi Il mio cuore danza Per me le cose sono due lacrime mie, lacrime mie, lacrime mie, lacrime miei, 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 lacrime mie ok vado a prendere il D-Link così facciamo anche la sorpresa facciamo la sorpresa ok perfetto ora adesso vabbè andiamo spero che non c'è mia sorella a disturbarmi perché forse è l'ultima canzone ok perfetto allora tutti i cantanti che ci dovranno essere saranno ok Aurora può? sì certo che può Aurora non avevo nessun vestito da mettermi quindi c'ho questo vabbè puoi restare Aurora puoi restare i primi cantanti che ci saranno sono Madame quella bravissima ragazza ti ha fatto il bene del male e poi Giorgia quella parola dette male poi alla canzone vincitrice mettiamo mon amour poi basta anzi metto la canzone che ha fatto l'alisa sì 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 ok poi c'è Ariete Ariete di essere vicino a Madame perché è giusto perfetto qua non mi vedo qua non ti aspetta facciamo un po' di spazio perché non è eh un po' di spazio allora Beatrice mettiti qua mettiti qua purtroppo eh quanti cantanti ci sono qua vabbè Madame mettiti qua ok e anche Beatrice perfetto allora ok perfetto Aurora resta vicino a me mi raccomando non so se non c'è tanto spazio ma vabbè ci contentiamo ok ora mettiamo ora mettiamo ora cegliamo la cantante ti ha fatto una canzone bellissima di quest'anno cegliete aspetta glielo dovrei glielo dovrò dire a papà forse aspetta la cantante il primo in classifica c'è al sedicesimo posto c'è Madame bene nel male grazie grazie brava poi ragazzi voglio farvi dire una notizia a tutto il concerto Elodie mettiti davanti a Aurora e Giorgia tu stai con me ragazzi sfruttatemi tutto il palco allora a novembre 11 novembre ci sarà il concerto di Madame e questo concerto sarà bellissimo perché in questo concerto canterà Arranciata Bene del Male e altre canzoni sue è tipo in questi giorni è uscito un album si chiama l'album l'amore quindi mi raccomando comprate mi raccomando l'album l'album l'amore mi raccomando compratelo perché l'album l'amore è bellissimo perché lo potete abbracciare anche può essere anche anche bello anche non per la notte ma anche per situazioni difficili come dovete essere vissuti alle medie ok mi raccomando andate a comprare voi che siete stritti mi raccomando andate a comprare gli altri alcuni non ce l'hanno oppure io non ce l'ho andate a comprare l'album di Madame l'amore e anche e volete bene del male bene del male pure se vuoi e e mi raccomando compratelo perché è un album fantastico un album che nessuno conosce e nessuno ha perché in quest'album l'amore è tutto rosso l'album l'amore è tutto tutto rosso non si può capire cioè non si può capire in un album tutto rosso ma vabbè vado a chiudere la luce della stanza la luce della stanza ok perfetto ora adesso perfetto ora adesso ora mettiti qua Elodie ora al tredicesimo posto c'è Giorgia grazie al aspetta al diecesimo posto sedicesimo del sedicesimo c'è Ariete con mare di guai grazie vittoria grazie devi vestire bene dopo ci rivediamo i miei concerti pure pure ok ok abbiamo scelto la cantante di quest'anno la cantante di quest'anno sarà quindi ok allora la ragazza di quest'anno ti ha cantato una canzone bellissima la più bella più bella è la più la più bella delle più belle è due una più preferita di me la più preferita devi far consolare dei momenti più brutti è bene nel male e aranciata e basta e è tutto qua perfetto patrice vai a prendere il premio e andiamo dai andiamo a prendere il premio il premio sarà soltanto qualcosa di così bello che non potete sapere oggi allora il premio sarà una spada oro una spada oro ok patrice allora questa spada oro ti può servire per davvero anzi il cliente ti chiede più informazioni vince ora vince la cantante più brava di quest'anno si vince vince elodie grazie grazie oh elodie è stata bravissima spero che si verrai il mio concerto vittorio sono così emozionata bravissima elodie bella canzone due bella bella ecco e ci rivediamo l'anno prossimo l'anno prossimo c'è madame se ha fatto una canzone bellissima bene nel male bellissima canzone madame brava bravissimissima chiudiamo scrivetevi e mettetevi like ciao prossimo anno ciao 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 ciao